Cin cin, al nostro succo terminato. Ok, ti va di andare a fare in giro la rinascente che voglio comprare qualche vestitino? Direi di sì. Ok, oggi mi farai da vodka. Va bene. Aspetta Charlotte, guarda. Chi è? Un macchino. Ok, questo è il macchino. Charlotte. La morte, la morte. Siamo qui, Dio, mi sento la verità. Io non lo so che cosa gli è preso, ma mi sembra la faccia di qualcosa che ho già visto. Io me le vado. Andiamo via, vai. No, no. Oddio, ci stai seguendo, Charlotte. Charlotte, dobbiamo prendere qualcosa. Prendiamo un buonacolino. Ma cosa vuole questo per noi? Charlotte, ti chiamiamo via. Ok, ok, ok. Com'era l'acqua, birra? Perfetto. Ok. Ho fatto. Sta arrivando Charlotte, veloce. No, no, no. Vai, ci sono. No, 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 no. Ok, mi sembra non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Ragazzi, non c'è più. È andato via. Ok, vai. Ragazzi, l'abbiamo seminato. Io non capisco che cosa vuole questo da noi. Io volevo fare semplicemente un videovlog e questo qui è venuto a rompere adesso. Ok. Ma cosa deve venire a questa cosa? No, 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 no. L'abbiamo seminata, adesso ci infiliamo tra la gente, così ci portandiamo. Vabbè, un'alternativa al tuo negozio. Ma adesso mi compri un portachiavi, visto che adesso qui siamo al sicuro, non ci vede nessuno. Mi compri un portachiavi? Vai. Nice. Troviamo questo portachiavi. Che carine queste pimpine Firenze. Guarda questo, che carino. Lo vuoi? Sì, è troppo carino. Lo prendi? È carissimo. Grazie. Sono una bambina che... Io spero che non appaia Mary Poppins da un momento all'altro, mi sembra Mary Poppins, Dottor Bob, tutto insieme, non lo so. Spero non appaia adesso perché è un casino, si appare in mezzo a tutta questa persona. Sì. Era che possiamo andare? Sì. Sì. Ok, dove andiamo? Si immagina adesso. Dove vuoi te? Ok, andiamo a Ponte Vecchio. No, c'è Ponte Vecchio. Ancora a te. Ciao. Ciao. Andiamocelo via, ha chiesto di nuovo il soldo. Io spero che adesso che gliel'abbiamo dato non torna più da noi. E adesso andiamo a farci il nostro giro a Ponte Vecchio senza nessun tipo di problemi. Questa Firenze è tanto strana, Charlotte. Sì, Firenze è strana oggi, non lo so perché. Sicuramente. Ok, andiamo a Ponte Vecchio e nascondiamoci in mezzo alla folla. Ok, io direi di nuovo. L'abbiamo seminato. Sì. Ok, ora andiamo a Ponte Vecchio, ci mettiamo a sedere sulla sponda e si mangiano lì le caramelline. Ok? Va bene. Batti cinque. Mi prendi qualche gioiello? Se proprio vuoi. Sì, voglio. Scegliene uno. Questo con la pietra verde. Un verde? Sì. No, però dai, sono buona. Andiamoci a mangiare le caramelline e basta. Per adesso. Poi andiamo a prendere le siti dalla rinascente. Vabbè. Vabbè. Guarda. C'è le gondole. Le gondole sono venute. Le gongole. Le gongole. Le gongole sono quelle che... Sì, mangiala. Io lo faccio a mangiare. Mangiala. Guarda le gondole. Tieni. Samuele. Ti butto nel fiume. Samuele. Dio! Samuele. Ma lei fatta cadere. Ma già. E' zitto. Ah, prende il sole. Guarda come viene bene. Guarda come viene bene. Ciao. 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 Sì, lascia la terra, lascia la terra, lascia la terra, lascia la terra! Cosa sta iniziando? Samu, lascia la terra! Samu... Ok, andiamo, andiamo, andiamo! Samuel! Samuel! Oh! No! No, Charlotte! Mettela via! Charlotte! Aiuto! No! Charlotte! Lascia! Lasciala! Samuel! Samuel dove lo sta portando? Non riesco a fare niente a te! Samuel! Aiutati Charlotte! Chiamo aiuto! Samuel! Devo chiamare la polizia! No! No! Non vai in internet! Non vai in internet! Non vai in internet! Non vai in internet! No! Non so che cosa vuoi! Non so assolutamente che cosa vuoi fare! Mi ragiono! Non so che... Non so dove andare! Mi raggiuro da tre ore che sto cercando Samuel e non lo trovo! Come è possibile che mi è arrivata una notifica non va in internet! Non so! Oh! Oh mio dio! È Samuel! È il numero di Samuel! Questo mi ha mandato anche la posizione! Ok! Ok, c'è scritto per andare di qua Ok, continuo dritto Devo trovare Samuel Se mi hai inviato a questa posizione con questa foto Significa che mi vuole minacciare, mi vuole chiedere qualsiasi cosa Io non capisco che cosa vuole da me o che cosa vuole adesso da Samuel C'è scritto qua Ragazzi che sta facendo Che cosa vuoi Mario? Cosa vuoi il cambio? Ti prego Colby, ti lascio il mio cappellino E ti lascio la mia borsa Ok? La mia borsa Tieni, tieni la mia borsa Ok, posso prendere Samuel? Pronto Gasmetti, sto chiamando la polizia, hai capito? Sto 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 chiamando la polizia Sto chiamando la polizia Guarda Sto chiamando la polizia Corri Vai via, che piacere Lì, per me, Samuel Samuel, ti giuro che Non lo so che cosa sia successo all'inizio Non mi andava in Che cosa ti ha fatto? Mi ha legato qua Quello è un matto, quello è matto Lo so Samuel, lo so Appunto proprio per questo Adesso ce ne andiamo Cata Io non ci tornerò più a Firenze Samuel, smettila Non è colpa di Firenze Ma è colpa di quello lì Tieni Ma con tutte le persone che ci sono a Firenze Se nessuno ti ha provato Scusami Dove stai andando? Sto schiattando Ok Magari torna Ok, dopo questa bruttissima esperienza Ce ne torniamo a casa Samuel, per piacere Andiamocene e non torniamo più adesso Ok Ok, prendiamo questi Sai come si sblocca? Sì Perfetto, anch'io Samuel, ti lo giuro Che adesso corriamo Come non abbiamo mai corso Io non ci sono più Veloce 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 Ciao, ciao ragazzi Ciao 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 Firenze Ciao Ciao Ciao